Sono felicissima, sono felicissima! Oggi mi dobbiamo andare a me la roba che ha preso di conto buccia Ecco, è peggio che Luca Ciao a tutti! Ciao a tutti! Benvenuti in un nuovo video con l'ospite! Eccolo qua! Allora, prima cosa Grazie, Follway Che mi ha fermato anche per strada Sono felicissima, sono felicissima! Una signora, Angela magari si chiama Sì, Angela Ma ha fermato la fermata dell'autobus Non ci volevo credere Un'altra Chiara ha detto che mi vedeva dal balcone Non capivo E invece mi vede dal balcone perché abita da quelle parti E poi la famosa che ho incontrato sulla crociera Che poi fondamentalmente come una gretina Non ho chiesto come si chiamava Non ho chiesto di farci una foto Però mi dispiace tanto Ma sono super felice! Quindi se capitate a Roma Conciate Caterina Fermatela Che è felice Sì, sono felicissima Allora Oggi mi dobbiamo mangiare la roba che ha preso di quanto gusto Cosa siamo qui a fare oggi? Caterina e Silvano ci sono venuti a trovare E quindi io l'ho incastrati E Silvano in questo momento è uscito È andato da Tappaccaio E non si è portato il borsello È uscito solo col portafoglietto Pazzito si fa Secondo me piove Oppure non torna Allora Siamo andati insieme tra l'altro Al Conad Però tu viste? Io Mica su Tirkia che ne piace una sola No Mica Tirkia Mica Allora Ho detto E' andato Caterina e Silvano Organizziamo un bel pranzo in giardino Ma con tu Che tu non l'hai mai fatta questa esperienza E allora Ho detto Facciamo fare questa esperienza C'è la amichetta favorita Allora Ma lo fai pure tu Ma lo fai pure tu Meno male che sono tre buste Quindi Ho preso ben tre buste Perché ieri mi sono appostata Proprio con l'app Appena sono uscite Mie Tutte e tre Perché se no Ci veniva bene Un bel pranzo per quattro persone Ho detto almeno tre buste Quelle del Conad Di solito sono belle ricche Caterina Perché lo so che tu i video non li guardi Non li guardo Ma di solito Le box del Conad Sono belle ricche Nell'ultima ci abbiamo trovato Allora In teoria Il valore di queste Dovrebbe essere 15 euro L'una Ammazza E l'ultima volta In una Ci abbiamo trovato Più di 30 euro Di roba Ammazza Quindi Direi che Ci dovremmo mangiare Come se dice a Roma Andiamo calzi Sì Allora Ce n'abbiamo tre E sono tutte e tre Belline pesanti Quindi Adesso Cominciamo Io 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 Ecco E' peggio di Luca Io 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 Aspetta Io 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 Cato abbiamo Rompere Mesa deside Solido Guarda C'è il taglierino qua Aspetta Ho capito Non è che poi non sta qua Tre ore No vabbè Ma io Io le buste Le utilizzo E ma tanto C'è sta l'adessivo Attaccato Allora Non devi sbirciare La devi pescare Ah devo pescare E tu qua Ecco è arrivata È arrivata È arrivata e sbirci Dai pesca Dai pesca Pesco Insalata Posso dire Quando è che scade Insalata sfiziosa A parte che mi stessi insalata Non fa comprare nessuno Perché Ogni volta Sette scade Domani quindi Perciò oggi ci facciamo La bella insalata Considera Considera Che io l'ho mangiata Ecco brava La mangiata Così lunedì Non cucino Ma la porto per lavoro Io l'ho mangiata Ieri E era scatutata Due giorni Sì Vado eh Un'altra busta Di insalata Ma questa va benissimo Perché io me la porto a casa Ma è buona Stasera Domani C'è il porro dentro Vedi Con il porro È buonissima L'ho mangiata ieri sera Eh però la vedo dura eh Oh sta miseria La vedo dura ragazzi Oggi insalatona Tre Oggi insalatona Quattro Oggi insalatona Cinque Oggi insalatona No vabbè però Vedi così Aspetta 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 Parliamone Cioè Questa Diciamo una famiglia Prende una busta Una box Ok Cioè puoi trovare Sei busta di insalata Che è una famiglia De capri Non va bene È una famiglia De quattro persone Un paio De buste Minimo Te devi mangiare Capito Ma guarda quant'è Eh vabbè Ma la porto io Non ti preoccupare No ma io me la mangio Ieri l'ho mangiata Ho mangiato Vado 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 Pesco Dai Calamari ripieni No Buoni Per gli ingredienti Vedere bocca Allora lo sai cosa No non mi ricordo Però se erano questi Del Conad Si erano del Conad A me piacciono No erano L'avevo già trovati L'altra volta Vi ricordate Però non mi ricordo Se l'ho trovati Al Conad O alla Copp Alla Copp Ma che ne sai Che video Non li guardi Allora Mi ricordo Che ho mangiato Dei calamari ripieni Orribili Nel senso Che erano De marmo Cioè anche il dentro Era de marmo Cioè era tutto De marmo Quindi Vabbè Mi mangio io Calamari Aspè vediamo 22,90 al chilo Sono 2 etti e 24 5,13 euro Quanto costerà Sto insalata Beh costerà Almeno L'insalata No di più Questa è quella col forro No questa costerà 1,70 euro Secondo me 1,70 euro Pizzetta Pizza stirata Base mozzarella Vari gusti Questa è con le patate Rosmarino Bianca 1,91 1,91 Sono 1,48 Costa 12,90 euro Al chilo E' tanto 12,90 euro La pizza No Vabbè Io tanto Le pizzette le congelo Perché poi Luca Quando torna la sera La mettono in friggitrice Ad aria Questa invece È margherita 2 etti e 24 11,90 euro Al chilo E costa 2,67 euro Bel pezzo De margherita Vabbè Io questo Le congelo Così come stanno Tu guarda Te oggi Te tre buste Se mangiamo Solo l'insalata Questa la congela Questo non mi piace Poi c'hanno tre buste Fammi congelare le pizzette Quello che posso congelare Va bene Va bene Poi che vuoi Già te stai a mangiare calamari Per pranzo C'è il goulash Il goulash Ma c'è 23,90 euro al chilo Sono altissimi i prezzi della gastronomia Porca miseria 23,24 euro al chilo E' folle E' carne col sugo E' spezzatino E' spezzatino Con un nome Policloristico 24 euro Spezzatino Vabbè che è cotto Però 9,99 euro 10 euro Sono quattretti Manca una famiglia Di quattro persone Ci mangia Vabbè Questo però Sì Ma sta mapposto Ok Polla rosto Ho capito Ma io che me magno Insalata Ah Insalata Polla rosto Se lo mangia Luca No A Luca Mi piace il pollo rosto Polla rosto Poi questo è Ah questo è proprio Il gira rosto Eh Ma c'è buono No c'è sui pomodori Eh si guarda Eh la che polla rosto Eh sarà Sarà Quello dell'altra volta Pollo alla contadina C'è scritto Polla rosto 3,79 euro Centesimi 10,90 euro Allora c'erano 6 buste Dentro una 1,50 euro Perciò Sono 9 euro 9 euro 19 euro Perché questo Sa 10 euro 19 E 5 24 28 28 28 Perché C'è Sì Sì Quell'altri 30 32,50 32,50 Allora è come se l'insalata T'avessero regalata Nel senso che La box Io l'ho pagata 4,99 Tutta sta roba 4,99 Doveva valere 15 euro In realtà ne vale 32 L'insalata t'hanno regalata Sì Ecco perché L'hanno messa Sì Però buona Perché così Ma porto via 2-3 giorni Mangio l'insalata Così a occhio 2-3 mila giorni 2-3 mila giorni Mangiava i San Marzano Così E tutti quelli Che la vedevano Che brava Invece di mangiarsi Le merendine Si mangia i pomodori Si mangiava i San Marzano Così Adesso non mangio Le merendine Insalata Schiziosa Ciolea E ma su tutto Quali Io non è che voglio Dico Nad Una Forse Forse Smetterei di Ordinarla Quest'insalata Perché ogni volta Che avrò una box Ce ne stanno Almeno un paio Di buste Senza Compra nessuno Stavolta 6 E non so Qui Quanto Ma io posso Aprire qualcosa Questa è diversa Questa è diversa E paesanella Questa non mi piace Insalata paesanella Quindi via riccia Valeriana La riccia Ma questa a me piace A me però Vabbè Se la mangiamo noi Questa riccia a me piace Vabbè Se la mangiamo noi Questa bisogna pure Mangiarsela subito Perché questa Si rovina più Facilmente E' vero Perché questa In effetti Due giorni dopo Questa riccia Una volta che l'ha tagliata La devi mangiare subito Poi questa scade Sì Sì Ma pure Quest'altra Queste qua Che hanno la valeriana E sono con radicchio Che Sammosciano facilmente Perché la valeriana E' una cosa Che sammoscia subito Quindi una Due Tre Quattro Quattro No Cinque Cinque però Quattro così E una come quella Di prima Oggi ci mangiamo questa No ma a me non mi piace Eh noi ci ha mangiato Posso pescare Non so perché Voglio dire Ho preso io Che sai Luca Torta salata Vari gusti E qual è questo Nello specifio Sicuramente Sarà prosciutto Va bene Una torta salata Che surgela No Dai Questa non possiamo Ah scusa Guarda lei 13,90 al chilo 2,34 3,25 euro Vediamo che altro Troviamo No non mischiare Che se no Non mischiamo Ah ok Scusi Poi Perché io non sono così E non sei esperta Non so Luca Che è sta cosa Pizza rossa Ah Ah E' ripiegata E' ripiegata Si è arrotolata La pizza Si è arrotolata Vabbè Un altro bel pezzo De margherita Bello grande 2,69 euro Che so Bacio o caosce O botte E meno Ho fatto così bene E me le baci Scusi Ah quello Ah questo Lo scontri Poi Ah ah Arista Arista di suino Al forno Buona questa Mazza 9 euro Ma io non ho capito Ma che mangio Siamo veramente Solo di salata Pizzata Eh la pizza La pizza E' di insalata Ah i calamari Scusa Eh ma ti ho detto Che non sono buoni Eh che ne sai Se sono i stessi Secondo me si 6,35 euro 3,36 Sei di arista Ma pare secchina però Eh beh l'arista Sì perché di solito In realtà Quando tu la fai Poi ci metti Un po' di maionese Un po' di salsa barbecue Salsa barbecue E chi ci vuole Perché di chi E questo è barbecue Oh buoni Queste Questo mangio io Patate d'uchessa Ah i patate d'uchessa 8 euro e 90 Al chilo 1 euro Sono netto De patate Sono Sono 1, 2, 3, 4, 5 6 patate d'uchessa Vabbè ma la busta Di surgelare di questa Costa Quanto costa 2, 3, 3 euro Ma neanche 8 euro e 90 Cacchia ora Hai messo al forno Eh ma infatti Boh Un po' spropositati I prezzi delle gastronomie Comunque Cioè Io capisco Che la gastronomia È comodo Tu vai là Allora di pranzo Pigli Sì ma sei stata sola Perché se già devi mangiare Se devi mangiare in due Non ce la fai Ma no Anche no Che è questa Non lo dire a Luca Non lo dico Che è La lasagna ragù Ah Buona È arrivato Silvano Scusate Allora Nel frattempo è tornato Silvano Che non si è perso Non si è perso Questa è lasagna ragù Questa è la cosa che Luca vuole sempre trovare Non trova mai Invece stavolta Però l'altra volta Io non c'era Luca Io ho trovato i cannelloni E gliel'ho congelato Eh E ieri sera è tornato E se l'ho mangiato Questa è 15,90 euro al chilo 2,68 euro 4,26 euro Vabbè Buona Vabbè La bella sleppa della lasagna Adesso vediamo che altro c'è stata Entra le buste E se no Questa io la congelo A meno che non sa mangiare Poi c'è la busta Pure il busto Vabbè vediamo che anche Sì sì Ho capito Ma non è che si poteva mangiare tutta sta roba No Sia mai L'ultimo È ancora Gula Ancora Gula Cioè Vi rendete conto che non ho trovato niente Per me Se non i calamari I tosti Eh no Le patate Patate e calamari E l'insalata E l'insalata Vabbè Stasettimana ha avanzato il Gula Io ero convinta Di trovarci ancora L'insalata di farro Col pesto E i gamberi Col cavolo Va bene 7 euro e 93 Vabbè Fatte il conto Allora 8 8 12 13 13 19 21 21 21 25 25 25 1 2 3 4 Buste 25 3 28 31 32 50 Come prima Quindi è sempre che L'insalata e la pizzetta D'anno regalata L'ultima Sì ma speriamo di trovare qualcosa per me Sempre l'insalata Ma allora voglio ancora Per prima c'è stata l'insalata Infatti io la vedevo dura Quando mi ha dato le buste Ah sarò preoccupata Perché ho detto Questa sarà solo l'insalata E poi tu ci metti vicino le altre cose Questa la vedo No vabbè ho capito Ma 15 euro non è che ti possono dare solo l'insalata Ti dovrebbero dare Però per esempio 9 buste di insalata Sì ti danno l'insalata Però non ti danno tipo le verdure cotte Eh perché evidentemente Non gli sono avanzate Che cazzo Eh loro te danno quello che avanza Allora questo mi dà per me Poi sono molto onesti Perché in realtà Guarda quanto roba te danno Insalata Questa qual è? È sempre quella lì che si mantiene Ah quella col forno Insalata 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 Ma dai è uno scherzo Due Tre Quattro Sei Cinque Sei insalate Però aspetta Di cui una samuscia E cinque no Cinque no Dai Quindi scusa Quante buste di insalata Ci abbiamo Arrivata Per questo punto Perché Abbiamo Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Unici Dove Tredici Quattordici Quindici Sedici Diciasette Buste di insalata Vabbè ma scusa Aspetta Raggi Ma che terribili Ma non bene I galline Non c'avevo più I galline Le siete Megnate? No Sono Ammalate Come Sono Ammalate Poi Non Si potete Un po' Fa ormai Vedi che non guardi Video Che lo sanno tutti Che non c'abbiamo più Le galline Tu sei Mi madre Non lo sai Ma ti sembra Una cosa normale Ma io lavoro Eh sì Invece l'altro Il lavoro E che la sera Alle dieci Dormo Allora Aspetta Ragioniamo Ragioniamo Se c'eravamo 17 buste di insalata Perché Per quanto Silvano voleva sapere Se c'era l'insalata Per pranzo No perché Per quanto Si mantenga Oltre il giorno Della scadenza Tu non capisci Quanti giorni Ci mangeremo L'insalata Amor Sì Però No no Va bene Ci mangiamo l'insalata Sì ma Puoi mangiartene No No aspetta Se tu l'insalata Allora Fatti questa qui Con la riccia Questa è un camagnalla Questa in realtà Oggi Barra Stasera Domani Domani a pranzo Già Sì Però si ammoscia subito Questa qui per esempio Che è quella che si mantiene Se tu la togli dalla busta Che è la busta Che gli fa l'umidità Gli fa il molliccio E la metti in un canavaccio Di cotone Te durate più La metti in un canavaccio Di cotone Nel cassettino L'insalata Te dura 3-4 giorni Ma capito Ma qui serve il cassettone Non è un cassettino Io ho il cassetto grande Ah no perché Voglio di 17 buste D'insalata Io ho il cassetto grande Che il baccalà costa Ho capito Ma 26,90 al chio Baccalà costa veramente tanto Ma so tre atti e mezzo Baccalà costa veramente tanto Sì ma so tre atti e mezzo Però una scatola dei ceci Qua ma quanto può costare Giusto il baccalà 9,63 euro Mazza Vabbè almeno mangio Ok Però questa è buona L'hai pescatù Poi ovviamente Per vedere Pesco questa Non voglio pescare un'altra cosa Che già lo so che Per vedere Goulash Di nuovo Goulash Dov'hai a cena Stasera Da solo Stasera È Porta del Goulash Ma l'era ieri sera È Porta del Goulash Questi hanno una vita sociale Più attiva della mia Ma non ci dormi a Roma Dormi in canno Sapevi? No Allora Pizza Stirata Allora chiamano stirata Base mozzarella Vari gusti A pizzetta A pizza Chiara surgelat Con le patate 1,99 1,99 Ok Buona E questa È quella sempre ripiena Questa volta però Sembra melanzane Che è? Sembrano tipo melanzane Radicchio No Secondo me è carne No No Ma si guarda Questo è prosciutto No Sì sì Questo è prosciutto No Ti dico di sì E apriamola E apriamola E lo scopriamo E allora la apriamo Apriamo io Da Assaggi Aspetta Ammieri E non si apri E assaggi E assaggi E' un'altra cosa Ma che vuol dire Sarà sempre la stessa Ma no Aspetta Ma quello secondo me È solo formaggio Ah sì prosciutto Quindi gli stai dando Un morso Per verificare Tente preoccupare C'è il Dyson Quello ha quattro zampe Buona Fredda Ma buona Questa Questa 5,58 Questo Luca L'ha già mangiato Un po' di tempo Ha detto Che era buono Però un po' Secchino Sempre Bisogna Mettere un padella Con un goccino D'olio Non in frigidrice Ad aria Perché in frigidrice Ad aria Se si cancola De più Bisogna Mettere un padella Con un po' d'olio Vabbè Vabbè Allora Aspetta 5,58 Aspetta 5 È sicuro Che oggi ci mangiamo L'insalata Su questo non ci piove E il goulash Questo Non ci piove Poi tutto il resto È contorno Allora 5,58 8 10 19 Anzi 20 Perché è 63 Questo è 50 20 40 20 30 30 E 6 Guste di 30 33 39 No Mi sei Eh sì Perché queste cose qua Sono tante Questo è 10 euro Ho capito Ma 39 L'insalata è 9 euro Ma doveva valere 15 Quindi vale Il doppio No di più Più del doppio Di quello che Doveva valere Comunque A parte tutto Io non so gli altri Io non vado quasi mai Aspetta Io per esempio Non vado in gastronomia Perché manco io Voglio dire Stai a casa Cucini da solo Ma che Beh Costa tanto La gastronomia Costa tanto Per una famiglia Che deve mangiare Però Stai da solo Vivi da solo Vai A cosa Spendi pure 10 euro 15 euro Ma io Spendi 10 euro Tutti i giorni Compri i piatti Comunque C'è la gente Che spende 10 euro In gastronomia Tutti i giorni Ma vabbè A me ci sta Per esempio Io lavoro in ufficio Ci stanno quelli Che a parte C'hanno tanti Etiquette Ma tanti Vanno tutti i giorni A mangiare fuori E tutti i giorni A mangiare fuori Tipo il dottore Che dove sto io Lui tutti i giorni Si è ordinata a mangiare E tutti i giorni Invece Caterina Si porta l'insalata Tutta la settimana prossima No io risalevo Pure ieri a pranzo Mi sono portata Insalata e pollo Eh esattamente Quello che succederà Insalata e pollo E lui tutti i giorni Minimo spende 7 euro e 50 Lunedì Martedì Gioedì E venerdì Quattro giorni A settimana 30 euro Per carità Non è che Ti metti povera Cioè sono 30 euro a settimana Però Capito Voglio dire Più di 100 euro Se tu li sottrai Se tu li sottrai Allo stipendio Tutti Tutti i mesi No vabbè Ma ti puoi portare pranzo Insomma Poi soprattutto l'estate Eh infatti A parte che anche l'inverno Perché molto Ho regalato la pentoletta Che scalda Sì sì Abbiamo scaldato un po' Sera il giorno L'abbè la settimana Sono molto utili Sì sì Sono molto utili Ma abbiamo un fornettino Quindi il bilancio Sono 17 buste di insalata Un'enorme quantità di goulash Speriamo che non pizzica almeno Perché Ah giusto Poi manco le cose che pizzicano Poi le pizzette Che andremo a surgelare Ma soprattutto Ci abbiamo Dell'arista Del polpettone Della lasagna Allora comunque Ma Ah il polo arosto Il polo Cioè se eravamo una famiglia Un camo Mangiato Con 15 euro spesi Ci mangi Sì sì Una settimana Sera Sera una bella Cioè tra le cose che congelli Pure il goulash Per esempio Uno lo può congelare E quando è lo tiri fuori E c'è il pranzo No questa cosa secondo me La trovo comodissima Prima per i sprechi E secondo per il risparmio Io per esempio Noi non la facciamo Gli essi vanno No devi essere però fortunato Perché io per esempio Qua c'ho sto conad Che fa così Perché Se già vai al Io per esempio A Piazzale Flaminio Ci abbiamo Carefour E quello Carefour È quello più caro in assoluto E non so neanche Se le fa Non lo so Da te chi le fa Qualche negozio sì Però sai che cos'è il problema È l'orario Suo gli orari Questo del conad È molto comodo Perché il ritiro È dalle 11 di mattina Alle 6 del pomeriggio Cioè tutto il giorno Perché ti danno le cose Del giorno brava Non è che tutti Fanno gli orari In cui uno Lavora Può andare Io potrei farlo Perché Silvano Ben o male Sta in pensione E ci potrebbe andare Un po' Il vecchio Diciamo Non è vecchio È stagionato È stagionato È un ventenne Con 50 anni di esperienza Molto Va bene Allora Smaltiamo St'insalata Dividiamo se St'insalata Ma poi portiamo Tu busta a Donatella Che c'è far pranzo E Va bene Ma come Cosa mangeremo a pranzo Lo vedrete nel video Di domani Fa come una volta Una volta sono andata Al paese E ora racconto Un episodio dietro Sono andata al paese E mia cugina Ci ha regalato Questo tanto tempo fa Ci ha regalato Una di quelle confezioni Di Di plastica Di cose Come si chiamano Di polistirolo Bianche E dentro c'era Mozzarellone C'era una treccia Grossa così Sarà stata una ghilata Andiamo a casa Tiro fuori Questa cosa Dico Madonna Guarda quant'è Mamma mia E c'era un bigliettino Perché era un'azienda Agricola Con scritto tutte le cose Di come era stata fatta E c'era scritto Per gustare al meglio Questa mozzarella Tagliate la fetta E metteteci limone Io ho detto Madonna il limone Su una mozzarella Vedete Silvano siccome è uno Che mangia Sperimenta Qualsiasi cosa Abbiamo fatto Un pezzo E il nostro Silvano subito ha detto Donna tutta sta mozzarella Regaliamole alla signora Di fronte Un pezzo Che ci abitano di fronte E ho detto Vabbè dai Dopo gliela porto Abbiamo tagliato La fetta di mozzarella Per una bella fetta Così grande Con sto cucino Di limone sopra Oh ragazzi Non potete sapere La signora De fronte Sta ancora a spettare La mozzarella Stasima maniera tutta Però nel caso Dell'insalata Io direi Possiamo condividerla Tranquillamente Con Donatella Va bene Quindi se volete vedere Che cosa mangiamo Quanta insalata Ci mangiamo No Indovinate che cosa Ci mangiamo Se volete vedere un video Indovinate cosa Ci mangiamo Perché sto facendo Il vlog Della giornata Con Caterina Indovinate che cosa Ci mangiamo Chissà A sorpresa Quindi Da questo mega Spacchettamento Di Too Good È tutto E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao